Lentamente, e cominciamo! Possiamo parlare con voi? O con qualcuno di quali rappresentanti? Possiamo parlare con voi? Lelle? Io sono Maurizio Frembo, segretario della FISAC CGL di Verona. Di Verona. Di Verona, siamo in 150 che veniamo dal Veneto, tre pulmi. Il messaggio? Il messaggio è che se ne devono andare a casa. Che non si cambia, non si cambiano così i giochi al Monte dei Paschi. Bisogna parlare col sindacato, bisogna parlare con i lavoratori. Questi non fanno quello che vogliono, devono cambiare banca. Devono andare in intesa, devono andare unicreto. Al Monte dei Paschi non si fa così, non si scazza con i lavoratori e le lavoratrici. Ci vediamo alla prossima volta, a 37 ore a me. Un ulteriore sciopero se non vengono al tavolo. Con l'intenzione di ascoltarmi. Noi vogliamo affrontarli sui seri problemi e non parlare a Vangola. Il signor Viola, che porta sfiga, se ne deve andare. Grazie. Grazie. Grazie.